Io partirei dai fatti di Londra, o meglio dal terrorismo che ormai da alcuni anni ci sta mettendo alle strette. Professor Montera, questo ha influenzato la scelta degli studenti, li rende meno propensi a viaggiare con l'Erasmus? In linea di massima no, ma certamente alcuni eventi degli ultimi tempi ci hanno obbligato, ci hanno spinto a prendere delle decisioni proprio per proteggere i nostri ragazzi. Ad esempio, su indicazione della Cruy, l'Università di Trieste ha chiuso gli scambi con la Turchia di Erasmus già dall'anno scorso. Pian piano, se la situazione comincerà a migliorare, certamente continueremo ad aprire quei flussi. Professor Montera, abbiamo sentito che in pole position a Udine sicuramente la Spagna, questo le farà piacere, ma anche a Trieste moltissimi scelgono come destinazione la Spagna. Qua c'è un dato curioso, dal punto di vista degli studenti che escono bisogna distinguere tra Erasmus Studio, Erasmus Placement, adesso si chiama traineeship, cioè tirocinio dedicati agli studenti, dentro anche del programma Erasmus. Le quattro destinazioni essenziali sono i quattro grandi paesi che sono la Gran Bretagna, la Spagna, la Francia e il Regno Unito. Come prima destinazione c'è, dal punto di vista dell'Erasmus Studio, la Spagna, arriva la Germania, dopo la Francia e dopo il Regno Unito, ma dal punto di vista del tirocinio, prima va la Germania, certamente perché forse lì si trovano più opportunità lavorative, dopo il Regno Unito, dopo la Spagna e dopo la Francia. Lei pensa che, diciamo, a livello di studenti viene scelta la Spagna per motivi linguistici? Anche, senz'altro, e anche perché per quanto riguarda l'Università di Trieste abbiamo già, immagino anche capiti lo stesso con Udine, delle reti molto, molto, molto assodate da praticamente decenni con i colleghi della Spagna. Brevemente, i numeri di Trieste? Abbiamo in uscita circa 250, scusi, in uscita circa 450, in ingresso 250. Ecco, prima di partire per l'Erasmus viene concordato un piano di studi, insomma, che si affronterà all'estero. Se questo non viene rispettato, è un problema? Deve essere rispettato. Perché? Perché l'Agenzia Nazionale, che ci finanzia, Bruxelles ci finanzia attraverso l'Agenzia Nazionale, perché i nostri ragazzi vadano fuori. Certo, per loro va benissimo, perché si tratta di un'esperienza culturale, ma anche, non dimentichiamo, che devono portare crediti, crediti formativi. Quindi, i piani c'è già sempre di più, uno studio molto, molto preliminare sulla base, perché i nostri ragazzi devono, i crediti devono venire riconosciuti qua, cioè gli esami devono venire riconosciuti qua. Altrimenti anche non si ricevono i finanziamenti. Altrimenti perdiamo finanziamenti dell'Agenzia Nazionale. Con l'Erasmus viaggiano anche i professori. Sì, e non soltanto, anche il personale tecnico-amministrativo, perché ci sono diverse azioni, non mi metto a spiegarla perché c'è un manuale di 282 pagine della Commissione Europea, ma per quanto si tratta, la prima azione che è la KA1 di mobilità per studio, c'è anche uno spazio destinato ai docenti e al personale tecnico-amministrativo. Ecco, questo dà la possibilità ai docenti, perché sono periodi molto più brevi, dà la possibilità ai docenti e anche alle università di fare forse anche dei seminari molto specializzati. Giusto, perché non dimentichiamoci che non si tratta soltanto di studio, ma di collegamenti dal punto di vista anche della ricerca. Per organizzare a volte dei seminari o dei convegni, uno va a fare il suo periodo di insegnamento che può essere da sette, normalmente è di sette giorni, andata e ritorno è cinque di insegnamento. Quelle ore vanno anche spesse, diciamo, nei programmi di studio dell'università che ci ospita. allo stesso tempo è un arricchimento per i ragazzi e un arricchimento per i colleghi che possono fare ricerca, possono creare questi gruppi di ricerca, convegni, eccetera.